buongiorno a tutti come promesso nel video precedente oggi vi spiegherò come usare la nostra dashboard e come aderire ad un programma allora innanzitutto cominciamo ad andare su admitad andiamo nella nostra dashboard nel nostro account quindi su programmi tutti i programmi a sinistra troveremo i filtri dove possiamo filtrare tutti i programmi quindi scegliere regione per esempio italia il tipo di azione lead o vendita scegliamo vendita possiamo filtrare anche secondo categorie come negozi online offerte finanziarie servizi online giochi online scegliamo i negozi online cliccando si apriranno delle sette categorie dove ad esempio scegliamo elettrodomestici ed elettronica quindi adesso possiamo filtrarli secondo ordine per valutazione ipc cr per nome o per data di lancio perfetto adesso scegliamo uno di questi ad esempio iphone per aderire molto semplice basta inviare una richiesta quindi si apre il regolamento di affiliazione è importante leggerlo tipi di traffico permessi quindi accettiamo le condizioni e premiamo pulsante verde unisciti perfetto questo processo richiederà un massimo di tre giorni ma di solito approvazione avviene in 3 virgolette 24 ore forse anche di meno dopo approvazione possiamo prendere o creare il nostro link di affiliazione vediamo come fare quindi apriamo la scheda del programma quindi troviamo informazioni sul programma regolamento regola generale tipo di traffico permesso materiale pubblicitario andiamo nella sottosezione banner dove ovviamente troveremo i banner e il link di affiliazione eccolo qui perfetto possiamo anche creare un deep link che porterà a una pagina specifica del sito da promuovere per fare ciò andiamo su iphone scegliamo ad esempio in qualsiasi prodotto questa televisione che è bellissima copiamo il link quindi inseriamo pagina di destinazione per il traffico inseriamo questo link possiamo aggiungere un sub id ad esempio tv ed ecco qui nuovo link di affiliazione creato quindi questo link ci porterà direttamente al prodotto ecco fatto tutto semplice perfetto a questo punto parliamo di statistica quindi andiamo nei rapporti dove possiamo avere per spazio pubblicitario qualora non è più di uno per programma per azione temporale per sem o sub id andiamo a vedere ad esempio per programma quindi nella statistica per programma vedremo ecco qui il nostro programma iphone e clic e pc e cpm conversione non abbiamo fatto nessun acquisto quindi la conversione 0 lit vendite e quindi i pagamenti rifiutati aperti o confermate possiamo vedere anche una statistica per sub id ecco qua il sub id che abbiamo aggiunto in precedenza tv eccolo qui un clic perfetto perfetto quindi abbiamo visto cosa sono le statistiche come aderire ad un programma grazie mille per l'attenzione ci vediamo nel prossimo video